Affermazione di Zingaretti è stata netta alle primarie, è una grande soddisfazione anche per quanti hanno votato Catena nella nostra regione, sono stati tanti? Sì, c'è stata una grande partecipazione, un risultato straordinario della lista Zingaretti anche qui in Abruzzo, in scia con il risultato nazionale. Siamo una delle regioni nel centro-sud dove il risultato di Zingaretti è stato più alto e un mandato forte e chiaro a cambiare, a cambiare a livello nazionale ma a cambiare anche in Abruzzo perché abbiamo bisogno di un nuovo PD per costruire un'alternativa di centro-sinistra credibile, forte e unitaria sul modello che abbiamo realizzato anche qui in Abruzzo attorno alla candidatura di Giovanni Lenini. Bisogna cambiare, noi chiediamo con forza che sia dal più presto ad un congresso regionale perché il Partito Democratico ha bisogno di un nuovo gruppo dirigente per affrontare anche le sfide impegnative di Pescara, Montesilvano e delle altre realtà importanti in cui andremo al voto insieme con le elezioni europee. Lei ha un po' anticipato la mia domanda, ci saranno le amministrative fra un paio di mesi, insomma è partito già il toto candidature però c'è ancora un po' di confusione, tanti nomi sui taccuini. Noi chiediamo che ci sia una gestione unitaria che tenga conto che c'è stato un congresso che ha espresso una nuova maggioranza politica qui in Abruzzo, quindi bisogna che questa maggioranza sia coinvolta ovviamente nelle decisioni, non facendo finta che tutto è come prima. Insieme dobbiamo gestire le candidature a sindaco, il nostro punto che poniamo è quello che ci sia una coalizione ampia di centro-sinistra e all'interno di questa coalizione scegliere in modo partecipato coinvolgendo i cittadini i candidati a sindaco che sono in grado di costruire unità così come ha fatto Giovanni Legnini a livello regionale.